Questo forse non sarà un video virale ma lo dovevo fare, lo dovevo a Enrico, probabilmente questo video non lo commenterà, quando uno fa i video per complimentarsi non vengono cagati solo quando fai un po' di hating, vabbè comunque bando alle ciance, tempo fa feci un video dove paragonai Enrico a Marco Merrino, questo video lo infastidi molto ma era fatto in realtà non per cattiveria, aveva lo scopo di mettere in evidenza come un canale di talento, poteva fiaccarsi, gettare un po' la spugna e fare roba più commerciale, per quanto a Enrico piacesse fare le canzoni. Faccio questo video perché credo che Enrico abbia trovato la sua dimensione, sono felicissimo di questo perché recentemente gli ho visto fare tanto successo col suo canale di gaming e in quel canale io ho rivisto, ho visto la vera anima di EnricoZeroDX, l'ho visto rilassato, l'ho visto divertito, l'ho visto competitivo e ho visto anche il suo montaggio originale, è stato l'unico compromesso possibile tra quello che era l'Enrico degli Zero Play che mi piaceva molto, non l'Enrico dei Corti ma va bene, io sono fan di Enrico principalmente per gli Zero Play e sinceramente vabbè non c'è il lato musicale di Enrico ma quello non mi manca, non perché lui non sia bravo ma non ero interessato a quello, come molti dei suoi fan in realtà. Nel primo canale lui aveva dei fan casuali perché venivano da un'ondata virale e io per esperienza perché in questo canale ho avuto ondate virali, quel tipo di fan non ha nessuna fidelizzazione, mentre i fan di Enrico di ZeroDX, la LaOvest hanno una fidelizzazione. Quindi sono qui per evidenziarvi questo canale, questa volta positivamente, per poter fare concretamente ammenda del precedente. In realtà quel video non era così cattivo o grave nei suoi confronti, elencavo anche dei pregi e solo che poi nei commenti, come il mio solito, un po' rovino tutto, vado sbragando, vado a esagerare con le mie connotazioni, con i miei pensieri e mi sono lasciato prendere da un'ondata di infantilità e bisogna metterci sempre la faccia, anche quando uno fa le cazzate, è importante, è coerenza e sento di voler fare questo video su di lui, non lo faccio per motivi legati alla viralità perché non credo che il nome di Enrico mi possa portare views, sono cose impressionanti, però se parlo dei miei contro tedi di insieme quello si, neanche se parlo di Joker va bene, per intenderci, neanche l'intervista a cartoni morti, ma vabbè comunque i video virali sono i video virali e hanno solo logiche di massa, comunque grandioso Enrico, ho fatto un'evoluzione, ho visto i suoi gameplay su CTR e uno tira l'altro perché c'è la sua passione per il titolo, in generale Enrico è veramente permeato da questo mondo Naughty Dog, Insomniac, perché Spyro, vabbè io faccio fatica a dire Spyro, per me è Spiro, lui stesso mi ha confermato nello Zero Play che deriva dal greco, quindi Spiro e Crash. La cosa che mi ha colpito, vi metterò qui uno screen, è questo video dove Enrico, e ragazzi io vi consiglio di andare a vedere il canale di Enrico, di guardare i suoi gameplay, perché in realtà con i gameplay di Enrico si evince chi sa fare gameplay. Io ho sempre pensato una cosa, chi sa fare tanto altro come Enrico, quindi corti, canzoni, chi sa comporre creativamente come lui, perché questo è un merito che non gli si può assolutamente togliere, per me rimane un grandissimo youtuber, chi sa fare quei video lì come gli Zero Play, i gameplay li saprà fare benissimo, e in effetti così è stato, Enrico ha dimostrato che se si mette a fare gameplay, se fa gameplay, può farli meglio di un Joker, cioè Joker cosa ci mette del suo? Il fatto che non sa l'italiano, quello si è caratteristico di Joker, oh no ragazzi ci vediamo qua, un milione e 7 di iscritti, un milione e 7 di iscritti sul nulla, non è capace, io a questo punto darei almeno 500.000 iscritti a Enrico, ZeroDX, LalaOvest, questo video è anche un malizioso pretesto per dimostrare come si fanno i gameplay e chi li può fare meglio di qualcun altro che invece ha molto più successo e molti più numeri, quindi grande Enrico, bravissimo, ho messo questo screen del video che ha fatto perché ha un montaggio pazzesco questo video e molti suoi video hanno un bel montaggio, sono gameplay ma sono anche qualcosa di più e c'è un'anima dietro, quindi complimenti Enrico, supportatelo, spero questo canale gli possa portare fortuna e anche qualche arrotondamento sostanzioso per la sua nuova vita a Milano, beato lui, quindi ragazzi fatemi sapere la vostra, fatemi sapere cosa ne pensate dei gameplay di Enrico, perché io personalmente li guardo e dico ma perché questi non hanno più numeri di questi altri. E ma YouTube Italia, dove tutto c'è tranne che la meritocrazia e siamo costretti a fare alle volte video stupidi, virali, perché quando facciamo video fighi, vedasi il mio ultimo video a tema Giappone, montati bene no, uno si spacca il culo, arriva fin lì in Giappone, fa le riprese apposta, potrebbe farsi i cazzi suoi e continuare solo a godersi la vacanza, niente, non hanno riscontri, oppure chiami ospiti importanti, doppi scene insieme a doppiatori importanti, io l'ho fatto con Andrea Piovan, ad esempio interviste, niente, niente, no, devi farle cazzate. Quindi comunque in ogni caso tra tutti i compromessi che si possono fare complimenti Enrico perché sono davvero belli i tuoi gameplay. Non mi aspetto di ricevere un commento di risposta ma se succedesse sarebbe figo, nel senso che è bello che qualcuno possa rispondere anche quando si fanno i complimenti. Iscrivetevi al su di canale che lascio qui e approfitto per fare delle scuse pubbliche e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!